carissimi amici sono don francesco sicari voglio farvi gli auguri di un santo natale il natale per noi è la festa dell'amore l'amore non è soltanto un sentimento ma l'amore per noi cristiani è una persona è il bambino di betlemme in quel bambino che nasce a betlemme dio ci ha rivelato il suo amore dio è entrato nella storia degli uomini il natale celebra proprio questa grande sorpresa di dio che ha deciso di farsi uno di noi ed entrando nel mondo dio ci ha donato anche la novità una possibilità nuova di vivere la nostra vita di vivere la nostra vita come uomini e come cristiani di vivere la nostra vita seguendo la logica dell'amore che significa farsi dono che significa scegliere la via dell'umiltà la via della semplicità la via della piccolezza ecco natale celebra tutto questo ci ricorda tutto questo ogni anno e natale ci invita allora a fare nostra questa logica di dio e a saperla vivere saperla mettere in pratica nella vita di tutti i giorni se vogliamo cambiare il mondo se vogliamo migliorare la nostra vita se vogliamo veramente realizzare quella che papa francesco chiama la rivoluzione dell'amore e natale ci ricorda che questi piccoli gesti di amore sono capaci di cambiare il mondo come celebrare il natale lo celebreremo nelle nostre famiglie lo celebreremo con le persone care lo celebreremo attorno consumando il pasto nella semplicità e nella gioia della nostra famiglia lo consumeremo il natale nell'incontro con il signore andando in chiesa partecipando alle tante belle celebrazioni religiose che si svolgono nei nostri paesi lo celebreremo però in modo particolare il natale se riusciremo anche a fare dei piccoli gesti di amore di carità pensiamo a quelle persone sole pensiamo a quelle persone che vivono delle situazioni di dolore pensiamo a tutte quelle persone che non hanno la gioia come noi di poter vivere il natale nella serenità ecco se noi riusciremo a farci prossimi ad essere vicini e solidali a queste persone a riuscire a strappare un sorriso a riuscire ad asciugare una lacrima dal loro volto a riuscire a dare una parola di speranza al loro cuore allora certamente sarà natale bello non soltanto per loro ma sarà il nostro natale perché abbiamo dato la possibilità a questi nostri amici di sentirsi veramente contenti di sentirsi pieni di quell'amore di dio che per noi si è fatto carne un augurio allora di un buon natale di pace di serenità per tutte le nostre famiglie un augurio di un natale di speranza per tutte quelle persone che hanno bisogno di ricevere speranza per tutte quelle persone che vivono situazioni di disagio per tutte quelle persone che non hanno lavoro per tutte quelle persone che sperimentano la fatica della vita ecco un augurio di speranza e un augurio di gioia per tutti buon natale con la gioia la vita ecco un augurio di speranza per tutti